Bella a tutti ragazzi, oggi sono qui tornati su Mario Stray che scaggia il football contro Bowser Junior, cioè il primo. Ho controllato ed era il primo. Ok, dobbiamo vincere questa per arrivare terzi o quarti. Quindi dai, dai ragazzi, datemi la forza dei pollicioni, mettete like, così io sarò più forte. Passaggi, no, serie di passaggi, no, Bowser Junior è scorretto, stardi. E' 1-0, Tartosso punisce, mamma mia, punisce tutti con una fulminata incredibile. Cartellino rosso, no, mi sa che ho eliminato una della mia squadra, non vorrei sbagliarmi ma... No, 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 Stigone, no. Accidenti a voi. No, non mi hai preso Todd, eh? Non me l'hai preso? No, e dai ragazzi, non so... Credendo ai miei occhi. E 5 tiri da parte di Diddy Kong. Adesso ne vedremo delle belle ragazzi. 1 2 Ma che è? Super portiere. 3 a 1 Grazie... Grazie a Bowser Junior che è lento. Boom! 4 a 1 Stelle cadenti per noi. Ragazzi, stiamo vincendo grazie alla loro velocità scarsa. No! Stardi! 5 a 1 Che bello! Così è facile vincere, no? Un gito sonico. 6 a 1 E stavo pure in 1 Mamma mia! Tartosso sto facendo strage, ragazzi. Giuro. Sto servendo molto in questa partita! Fa Ti No! No, sei a 2 Stardo! Non lo so se lo sapete. Comunque la mia squadra vecchia stava a Bowser Junior come capitano. Ve lo giuro. Beh, super gol, lo passava. Madonna, Bommo li sfuggiva, ragazzi. Tiro di schifoso, però li sfuggivano. Bomma, 8 a 2 Mamma mia, ragazzi. Stiamo facendo strage di gollo. No! No, la scarsa, la velocità no! Bommo! Via, 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 via. Ok, 3 tiri, 20, però possono 6.000, ragazzi, eh. Possono 6.000. Uno! Due sono passati! Mamma mia! 10 a 2 Forse perché non se lo aspettava e stava impreparato, ragazzi. No! Spazzala! Passala! No! Mi ha dato di nuovo al portiere. Guardate! Una scarsa velocità! Che fa? 11 a 2! E stelle ancora! Mi giuro, ragazzi, quando ho scoperto la scarsa velocità di Bowser Jr. Ho ricominciato tutto da capo. Mi ho messo Mario. E ho vinto. Vabbè, Pipino lo ricorderò per sempre, ragazzi. Pipino era la mia cosa più brutta perché, ragazzi, arrivavo a Pipino e venivo sconfitto con due gol o un gol proprio a Pino. Quindi. Ok, siamo pronti! Abbiamo superato Bowser Jr. Forse la classifica. Quindi, vediamo in che posto stiamo. Quinti ancora! Va bene, ragazzi. Ah, no! Forse arriveremo secondi. Posto di Bowser se vinceremo questa. Ahia! Cioè, ci sono tanti scarsi velocità, però... C'è Toddino. Che è velocissimo. E Bowser. Che è scorretto, Bowser! È scorretto! È scorretto! È scorretto! È scorrettissimo, Bowser! Noi gli insegniamo lo stesso. Non è vero. Ma, staso, ma... Ok Ho buttato Bowser all'aria Eh vabbè Ragazzi Oh C'è Todino Che culo Quanto forti Mamma mia ragazzi Questa è secondo me Entrano tutte e quattro Vediamo un po' Tre Come avevo detto Quattro a zero Mamma mia Mamma mia Che gollo Madonna Il colpetto d'assalto Voleva Metto una banana grande Giusto per No Bum Madonna Critter Super portiere Ci voglio capire Madonna No E dai Tartosso Sei stato bravo Però No Mi ha Fermato la mia tattica Fermato Madonna Non gli lasciamo tregua Bowser Portiere Stancherà Sicuramente Guardate 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 Non gli lasciamo tregua Guardate Non gli stiamo lasciando tregua Bum Bum 6 a 0 Ragazzi Comunque Scusate Se non parlerò Perché Mi sto concentrando 7 a 0 7 a 0 7 a 0 I soliti idioti Ok Go 8 a 0 Yahoo Madonna Ho fatto strage Per una volta Bose Ho sbagliato Pule Sono pronte A parare Il dirilibose Madonna Madonna I dirilibose Sono potenti No Me ne è sfuggita una Visto Mi sento Più strong Madonna Madonna Non lo devo sottovalutare Perché Può recuperare In un attimo Ragazzi Quindi ragazzi Fate Dobbiamo fare attenzione No Aia Sapete che adesso Ho capito La mossa di Todd Vi giuro Adesso ho capito Solo adesso Madonna Madonna Voglio segnare Bum Ah Però E abbiamo Battuto Bose Tadadadadam Stiamo battendo Tutti In questo episodio Molto strano Mamma mia Siamo dei pro Veri pro Veri pro Professionisti Ok Andiamo A vedere Con chi Ce la giocheremo L'altra partita Allora La giocheremo Con Mr. Paruigi E noi siamo Terzi Come vi ho detto Adesso Se vinciamo Questa Arriviamo sicuro Secondi Secondo me Ragazzi Che è ancora Secondo Bowser Penso Però Ha sconfitta Di più di noi Quindi Non penso che sarà Oh Cavolo Quanto era diventato Veloce Veloce Buonissimo Luigi Aia Stardi Madonna Mi arrivo Con la testa Toglietemi Da qua Comunque Ho capito La mossa di Todd Che Diciamo Se ha le mani Infocate Non pare A nessun tiro Di mossa Questo Dovrebbe fare Che io Non riuscivo A capire Qualche volta Segna Quella cosa Quindi Io non riesco Molto A capire Però Poi Fa Certi Saltelli Todd Sono Dei Miracoli Con Una Zero Madonna Ragazzi Madonna Madonna Io Non l'ho mai Battuto Pipino Però In questi Video Sono Dato Sono Pronto A dare Il Massimo Quindi Ragazzi Godetevi I miei Goal No Quasi Goal Vero Godetemi I miei Goal Che cosa Stavo Dicendo Grazie Grazie Martellino Rosso Bum Due a zero Pensiamo a un a zero Scusate se non parlo perché mi devo concentrare veramente tanto in questo trofeo Qui kanal Scusate se non parlo perché mi devo adorare anche la chillheit e le tenere la battaglia. Se non parlo perché mi devo adorare anche la calza di un' a zero che go di merda, non ci credo, non ci voglio mai credere, riteniamo la palla, ok, abbiamo vinto, abbiamo vinto, e vai, comunque per questo episodio, questo episodio è quasi finito, quindi questa è l'ultima partita che faremo, siamo pronti eh ragazzi, questa è l'ultima partita che faremo in questo episodio, ci scontriamo contro Desi, ancora, bene, e noi siamo secondi, come vi ho detto, è contro Desi, olè, quindi se vinciamo può darsi che andiamo primi, ci avviciniamo alla posizione prima, guardate, ha fatto sei vittorie, tre sconfitte, come a noi, se vinciamo questa arriviamo come a lei, però poi abbiamo una sconfitta Golden Goal, ma poi possiamo recuperarla con la sconfitta, quindi siamo pronti eh ragazzi, cartellino rosso, ma vai, oh brava, potete freccare su, no vi diri, e va bene, vi faccio la mossa, una, eh madonna, una palla, che ti incacchi, no che ti incazzi, scusa, una palla non hai parato, voglio capire ragazzi, che si arrabbia, no bravo tartosso, mi è piaciuto, ahia, buona, buonissima, io carico il mio tiro, mo li faccio bestemmiare, mo li faccio bestemmiare ragazzi, no, madonna, madonna, e vediamo se tu non devi darmi fastidio, ti devi imparare a stare fermo, no, no, accidenti, no, la mucca, la mucca, no, portiere, ma che cosa fai, madonna, 5 porti e vediamo ma dobbiamo vincere assolutamente ragazzi boom 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 4 benissimo siamo a 5 a 1 boom la lentezza nelle cose no ha preso il corpetto se ha un uomo assegnato col sesso dal posto madonna che ingolido strepitoso mamma mia il portiere di desi un cesto rispetto al nostro madonna guardate come si è stancato li bruciano pure le mani guardate è vero però in confronto al nostro non è niente boom prende la portiera aspettiamo agli altri ok passala ahhh schivate nooo ho perso due ah no uno ero quasi goal era quasi goal c'era il goal eh madonna che culo che culo di cleppis boom goal 8 a 1 madonna 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 ragazzi che amichevole che amichevole no ragazzi comunque stiamo giocando un'ottima partita 4 potenti e veniamo ragazzi stiamo vincendo tutto in questo episodio e nell'altro episodio abbiamo vinto tutto madonna però le apparate tutte stavolta le apparate no no vabbè abbiamo vinto altro a 1 no che cosa comunque per questo video è tutto vediamo in che posizione stiamo e poi concluderò ovviamente con questi video la settimana concluderanno qui allora allora la gazzetta dello striker l'ex campione ecco vediamo in che posizione stiamo eravamo arrivati i primi perché lei ha avuto una sconfitta in più abbiamo fatto più reti fatte abbiamo subito anche di meno quindi 19 punti se lo giudichiamo e vinciamo ok è arrivato il sesto mario e il quinto poser quindi addio addio a giocare contro Bowser Jr Luigi e Daisy ok nel prossimo episodio proveremo a vincere questa coppa questa coppa cristallo e quindi questo video finisce qui e ci di ciao gente scherziamo ciao gente guardate la coppa cristallo ci di ciao gente basta ciao gente ragazzi e al prossimo video grazie 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 grazie